Allora, Ionica Casa vuole presentare stasera dei servizi creati per il proprietario che vuole locare la propria casa in tranquillità e in sicurezza. Servizi sicuramente innovativi per quanto riguarda il campo immobiliare che sicuramente non tutti i competitor hanno in listino. Bisogna fare un escursus sulla locazione per capire che ormai i tempi sono cambiati. Già negli anni passati era impensabile che i nostri figli andavano in locazione, specialmente in queste nostre zone, perché tutti avevamo la nostra casa che ci avevano magari tramandato i genitori oppure lavorando si riusciva a fare una casa di proprietà. Oggi come oggi i tempi purtroppo non sono questi, si è un po' stravolta la cosa ed è un po' difficile riuscire ad avere una casa propria. Le banche in questo caso non aiutano tantissimo perché giustamente non danno i mutui 100%, danno l'80% del valore di un immobile e la rimanente somma la deve avere il cliente finale. Capite bene che una coppia che magari si vuole fare una famiglia, avere da parte i 30.000 euro, che sono le differenze che il cliente deve mettere per completare la somma mancante che dà la banca diventa un attimino difficile. E non solo questo, le persone ormai non si sa dove escono e non si sa dove muoiono, perché si gira tantissimo nella vita e si preferisce ovviamente andare in locazione. Questo sicuramente dà vantaggi economici ai proprietari di immobili e investitori. Per l'inquilino ovviamente ha la possibilità di farsi una famiglia oppure di spostarsi quando ne ha voglia. Qui da noi c'è da aggiungere che praticamente gli immobili non costano ovviamente come al nord e hanno una rendita altissima perché se pensiamo che andare ad acquistare, faccio un esempio, un appartamento e pagarlo 100.000 euro e si prende già un buon appartamento qua da noi e localo 300-350 euro, questi sono i costi di zona, capite bene che abbiamo una rendita del 35% e sicuramente andarla a mettere in banca o investire in botte CCT è difficile avere un rendimento del genere. Bene, il rischio dopo aver comprato la casa e investito i nostri 100.000 euro può essere quello di trovarci un inquilino che non ci paga l'affitto perché le nostre zone ovviamente hanno i pro e i contro, come sappiamo, il lavoro è quello che è e magari anche avendo tutte le buone intenzioni e la voglia di pagare questo canone ci troviamo magari in un momento di difficoltà come può essere che capita purtroppo nella vita e non si riesce a pagare. Bene, noi abbiamo voluto iniziare a parlare dei nostri servizi iniziando dall'assicurazione, cioè noi abbiamo un prodotto assicurativo che copre per un massimo di 12 mesi di canone non pagati un avvocato per far sì che purtroppo l'inquilino vada via e se ci sono danni all'immobile vengono anche pagati. Questa, con una modifica cifra di circa 2 mesi di età, non costa tantissimo vi copre l'intero contratto d'affitto, cioè a dire se avete un contratto d'affitto per 4 anni pagando questo canone voi avete la copertura per tutti i 4 anni. Voglio fare un esempio più nello specifico, mettiamo caso che è una locazione di 350 euro al mese con un costo di 700 euro di polizza avete la copertura assicurativa. Come vedete si può tranquillamente evitare la cauzione che sono i soliti 2 mesi o 3 mesi quelle che sono, perché con quei soldi della cauzione noi possiamo avere questo servizio. In più abbiamo altri servizi che vi vado ad elencare sul nostro sito, poi vi lascio il link sotto. Registrazione del contratto di locazione online, cioè senza recarsi a fare file all'agenzia delle entrate rischiare di questi tempi, di prendere purtroppo qualche malattia, noi riusciamo a registrare il contratto a distanza con il semplice contratto di locazione, con la scelta se è con cettolare secca oppure al canone tradizionale e ve lo trovate sulla ricevuta sulla vostra posta elettronica. In più abbiamo anche, per chi non vuole o non sa fare una stesura di un contratto di locazione, lo facciamo noi, ovviamente i nostri contratti sono blindati, cioè sono contratti a depure e sicuri che tutelano sia il proprietario sia l'inquilino e non rischiano di andare magari a fare un contratto che magari può risultare un nullo. Sempre nei nostri servizi trovate la certificazione energetica, l'APE, che noi abbiamo delle convenzioni con tecnici abilitati a fare questo certificato. Vi ricordo che l'APE è un certificato obbligatorio sia per chi vende ma anche per chi affitta, perché sicuramente dovete citarlo sul contratto di affitto e se poi l'ufficio dell'entrata fa un controllo rischiate un verbale che può essere dalle 600 alle 4.000 euro circa. Magari con una spesa di 100 euro, 150 euro, quello che costa l'APE, è meglio farla. E ultimo ma non ultimo, sempre nei nostri servizi, vi diamo la possibilità di scaricare i contratti di locazione. Tranquillamente andate sul sito, scegliete il contratto che vi serve, lo potete tranquillamente scaricare e riempire e fare tutto da soli. Io vi voglio invitare a contattarci se dovete affittare la vostra casa, perché solo noi possiamo dare la tranquillità e la sicurezza che giustamente avete bisogno. Grazie dell'ascolto, alla prossima casa che visiteremo insieme.